Sta arrivando, sta arrivando, sta arrivando Mandriot Ancora una consegna e siamo a posto Ma papà è finito E allora? Facciamone di più, per fare lo yogurt ci mettiamo 12 ore come 20 anni fa E fra 20 anni ci metteremo ancora 12 ore perché le cose fatte bene sono tutta salute Salute a tutti Yogurt Mandriot Salute a tutti